Cambiamo sport, parliamo di palla a volo perché è arrivata la prima preziosissima vittoria in trasferta della stagione della Verona Volley. Capitano Raffaele, una partita fondamentale, una vittoria fondamentale per questo gruppo qui a Cisterna, la prima in trasferta. Sì, fondamentale anche, è bello vedere la crescita delle squadre, nel senso che abbiamo sopportato tanti dei momenti difficili qui oggi, quindi prima non era così, non riuscivamo ad avere pazienza in questi momenti difficili. Oggi siamo riusciti a avere la testa giusta in campo, abbiamo dimostrato tanto carattere, quindi sono davvero molto contento per questa vittoria fuori. Abbiamo tanto da lavorare ancora, abbiamo tanto da crescere, quindi però siamo nella strada giusta. Lorenzo Cortesia, grande protagonista della sfida di questa sera, una vittoria importante per Verona, che è anche la prima in trasferta in campionato, una prima molto importante, una vittoria altrettanto importante. La partita importantissima per noi era, prima di tutto, uno scontro diretto con una squadra forte come Latina del nostro livello. Siamo molto contenti per la prima vittoria in casa, si voleva per dare morale, insomma siamo contenti. Dopo l'inizio un po' così, avendo perso il primo set, poi però Verona non si è persa d'animo e ha messo a segno altri tre set fondamentali. No, no, volevamo fortemente questa vittoria, quindi non ci siamo andati per vinti, abbiamo continuato a lottare e questa secondo me è stata la chiave. Abbiamo giocato molto bene, siamo contenti di questa vittoria. Ora si torna a Verona, si torna un'altra sfida importante con Milano. Come tornerete in palestra, insomma, in questi geni? Su cosa lavorerete? Sicuramente con più consapevolezza. Milano è una squadra molto in forma, appena passato le semifinali di Coppa Italia, è arrivata la semifinali di Coppa Italia, quindi dovremo fare una grande partita e prepararla al meglio.